Buongiorno a tutti, sono Sandro Tognazzi e voglio scusarmi con tutti voi. Settimana scorsa non sono riuscito ad arrivare in tempo su YouTube e caricare il mio video perché sono rimasto incastrato, come vedete, e pensare che mi ero preparato bene, ma poi è successo che mi sono incastrato proprio mentre stavo per arrivare al mio nuovo video. Cosa volete farci? Qualcuno ha un carroattrezzi? Qualcuno può aiutarmi? Fate in fretta se potete. Grazie. Grazie.